Siamo con David Brutic, Massimo Musolino, degli basket. David, l'avete portato a casa alla fine? L'abbiamo portato a casa. Siamo arrivati qua in gara 3, pensavano tutti che avessero ribaltato la serie e di passare il turno in trento. No, abbiamo tirato fuori dei attributi incredibili in queste due partite. Gara 3 l'abbiamo dominata, gara 4 è stata tiratissima, però alla fine ne abbiamo avuto più di loro. Abbiamo un grande pubblico, non so quali sono. Siamo in finale, chi l'aveva mai detto? Noi però ci abbiamo traduto e siamo qua. Bene, bene. Onore a Brescia, meritata la vittoria. Anche Trento ha giocato una buona annata comunque. Trento ha fatto una super annata, lo vittò anche la Coppa Italia, hanno eliminato i primi. Quindi onore a loro. Noi siamo finiti i quarti, siamo riusciti a spuntare, abbiamo fatto una stagione, almeno stagione regolare, meglio di loro. Quindi siamo riusciti a non portarla a gara 5, che sarebbe stato un rischio. E niente, adesso aspettiamo questa finale. Com'è che Cuccarolo tutte le volte che trova Trento, fin dai tempi di Venezia, sei anni fa, ci gasa? Cosa gli succede? Ah, non lo so. Non so dirti di Trento, so che l'ultimo periodo è migliorato, gioca con più sicurezza e ci dà la mano. E ci serve parecchio. Venone, complimenti e in bocca al lupo. Grazie, credo. Grazie, ciao. Ciao, ciao.